pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati eccoci alla domenica della divina misericordia il vangelo ci riporta la domenica mattina di pasqua i discepoli sono nel cenacolo rintanati per la paura dopo la morte di gesù e il loro fallimento chi ha tradito chi ha rinnegato chi è fuggito ecco la paura paura dei giudei paura di morire paura di essere inadeguati per la missione paura di non farcela anche noi siamo spesso impastati di paure la paura che in sé è un'emozione fondamentale che serve a preservare la vita dal pericolo a volte se non gestita rende ingestibile la vita paralizzandoci o facendoci scappare lontano da ciò che ci spaventa anche se buono i discepoli sono dunque rinchiusi nel cenacolo quando ecco manifestarsi gesù risorto che entra a porte chiuse e dice loro pace a voi mostra loro i segni delle piaghe e i discepoli gioirono al vedere il signore cosa stanno ai discepoli dalla paura chi infonde in loro pace profonda e gioia gesù risorto e lui ed è la sua grazia la prima chiave di volta per uscire dalle nostre paure fondamentali gesù si manifesta vincitore nessun accusa nessun rinfacciamento sereno mostra loro i segni della passione del suo amore appassionato per ciascuno di loro i discepoli riconoscono gesù dai segni della passione riconoscono che egli non li aveva amati per scherzo ma a costo della sua stessa vita quelle ferite ora feritoie di luce indelebilmente impresse nella sua carne gloriosa sono come un racconto d'amore scritto a caratteri cubitali sul suo corpo dove come diceva sant'antonio di padova le mani sono la carta i chiodi la penna il sangue l'inchiostro cari fratelli e sorelle contemplare quelle piaghe ci conquista all'amore di dio e per dio contemplandole come se egli ci dicesse guarda quanto ti amo per me vali tutta la mia vita tutto il mio sangue per te mi sono lasciato insultare crocifiggere per te perché tu non abbia paura e mi lasci entrare nella tua vita e ti ho messo come sigillo sul mio cuore ti porto tatuato sul palmo delle mie mani non temere anche se una madre si dimenticasse del proprio figlio di te non mi dimenticherò mai solo quest'amore ci libera al quale attingiamo pregando meditando sul vangelo ricevendo l'eucaristia solo in forza di quest'amore possiamo essere stanati dalle nostre paure fondamentali specie dalla paura di dio e dalla paura della morte del non essere per nessuno e di conseguenza dalla paura del donarci fino in fondo a dio e agli altri in tutto questo il grande assente era l'apostolo tommaso chissà forse era deluso da sé e dagli altri che come lui avevano abbandonato gesù forse non accettava di starsene lì rinchiuso e cercava risposte altrove ma da solo i discepoli gli annunciano di aver visto gesù risorto e tommaso non ci sta come a dire perché a voi sì e a me no non vuol credere si ostina non si accontenta del loro annuncio vuol vederlo anche lui e pretende di mettere il dito nel segno dei chiodi e nel costato una settimana dopo la domenica successiva lo troviamo con gli altri discepoli tommaso si mette nella condizione di incontrare il signore risorto insieme alla comunità riunita abbiamo qui una chiara allusione all'eucaristia domenicale come ricordarci che è lì con la comunità riunita che celebriamo la presenza di gesù risorto e infatti ecco il manifestarsi di gesù che va incontro a tommaso e gli ripete le stesse identiche parole che tommaso aveva detto una settimana prima tommaso metti qua il tuo dito e guarda le mie mani stendi la tua mano e mettila nel mio costato e non essere più incredulo ma credente l'ostinata incredulità di tommaso viene vinta dalla misericordia del signore che con tanta tenerezza gli va incontro e tommaso prorompe nella più bella professione di fede del nuovo testamento mio signore e mio dio e noi ascoltando con fede la sua esperienza possiamo credere senza bisogno di vedere in fondo dobbiamo ringraziare tommaso come ha detto il papa perché ha voluto vedere dentro le sue piaghe perché anche a noi non basta sapere che dio c'è non ci attrae un dio distante per quanto giusto e sapiente no noi abbiamo bisogno in un certo modo di vedere dio cioè di toccare con mano che è risorto che ci ama personalmente e che il suo amore può cambiare realmente la nostra vita tommaso a quel punto lo chiama mio signore e mio dio usa l'aggettivo possessivo mio non in senso di possesso esclusivo ma di appartenenza come dice l'amata del cantico dei cantici il mio amato è mio e io sono per lui se nella nostra esperienza personale di fede manca questo mio tu sei il mio signore il mio dio forse la nostra più che fede nel risorto è una religiosità credenza peggio ancora paura o residui di un catechismo superficiale dio ha voluto farsi nostro perché anche noi possiamo accoglierlo e dirgli tu sei mio ti sei fatto uomo per me sei morto e risorto per me e allora non sei solo dio sei il mio dio la mia vita in te ho trovato l'amore che cercavo e molto di più come mai avrei potuto immaginare e allora giorno dopo giorno domenica dopo domenica come tommaso non vivremo più da discepoli incerti timorosi o titubanti diventeremo anche noi veri discepoli innamorati del signore e se saremo innamorati del signore faremo la sua volontà ameremo sapendo accettare le inevitabili trafitture che ciò comporta anche noi come ha ricordato fra faustino nella messa in cena domini porteremo in presse nella nostra carne le insegne del suo amore un amore più grande dell'odio più intenso del rifiuto ed è da quelle ferite d'amore da quella vita trafitta dall'amore di dio e per dio spesa per gli altri che altre persone potranno venire alla fede come è successo e succede a tanti pensiamo al papà di sant'agostino che vuole ricevere il battesimo in punto di morte vinto dalla dolcezza della moglie santa monica o all'assassino di don pino puglisi vinto dal sorriso riservato gli dal sacerdote mentre lo stava uccidendo e l'elenco potrebbe continuare concludo il vangelo ci offre infine un luogo privilegiato dove assaporare questo suo amore questa sua passione per noi il suo perdono gesù risorto e fonde nei discepoli il suo santo spirito invitandoli a proseguire la sua opera riconciliando i uomini con lui coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati coloro ai quali non li perdonerete resteranno non perdonati è il perdono di dio che libera il cuore dal peccato dalla paura dell'inadeguatezza dal senso di colpa dalla percezione dell'essere falliti quel perdono che facciamo nostro nel sacramento della confessione lì dio ci riabbraccia ci risana ci risuscita a vita nuova e come disse gesù a santa faustina covalsca figlia quando ti accosti alla santa confessione a questa sorgente della mia misericordia scendono sempre sulla tua anima il mio sangue d'acqua che uscirono dal mio cuore e nobilitano la tua anima ogni volta che vai alla santa confessione immergiti tutta nella mia misericordia con grande fiducia in modo che io possa versare sulla tua anima l'abbondanza delle mie grazie sappi che io stesso ti aspetto in confessionale mi copro soltanto dietro il sacerdote ma sono io che opero nell'anima lì la miseria dell'anima si incontra col dio della misericordia sì cari fratelli e sorelle lì il dio ferito d'amore viene incontro alle nostre ferite e rende le nostre misere ferite simili alle sue piaghe gloriose dalle ferite del nostro peccato confessato filtra la luce della sua misericordia che ci ridà vita perché egli è misericordia e dove si ha l'umiltà di lasciarlo entrare egli opera meraviglie nelle nostre miserie buona festa della divina misericordia e che il buon dio vi benedica a tutti pace e bene